Allora, grande, 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 grande. Allora, adesso abbiamo il decimo concorrente, sono il 7 e 8. Oh, è il momento serio. Allora ragazzi, guarda, questa cosa è una cosa seria, abbiamo avuto un campione del mondo, adesso abbiamo qua altri campioni del mondo. Abbiamo gli amici della Lidica, Valle Brimbana. Sonia Paraca, soprano, Miriano Plevani, contralto. E Michele Cervasoni, pieno di stai, accompagnatore che ci delizieranno con delle canzoni di Lidica. Presumo, gli accogliamo sul palco con un grossissimo applauso. Oh, canta, canta. Bellantissima, salvi, legantissimo, bellissimi, intimi. A voi, i soprani, gli amici della Lidica, Valle Brimbana. Allora. Ho sempre sognato a fare sta cosa, che sembra tipo Sanremo, canta, divisi l'orchestra, e Silvio, ma che così? E Silvio? No, no, aspetta, 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 ah, non la trovo, ero preoccupato. Il momento è serio, io gli ho annunciati come lavoratori di teatracia da Marini Macavarè invece loro, professionalissimi di Glenn Miller, Miriam Plevani, ci presentano la celebre e poi l'ho annunciati. Mabini. 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 Oh, ok. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.